Ehi ragazzi, ad Ormia c'è Mr. Coffee. Mr. Coffee, il locale giusto per le tue serate speciali. Perché da Mr. Coffee puoi scegliere tra un'ampia sala dove trovi snack bar, gelati, pranzi veloci oppure un'altra sala riservata dove gustare un buon tè con della buona musica o altrimenti divertirti nella sala giochi dove trovi anche i biliari. E in view, da Mr. Coffee, ogni fine settimana c'è la musica dal vivo o il karaoke. Mr. Coffee, come vuoi, dove vuoi, con chi vuoi. Mr. Coffee, come vuoi, dove vuoi.